Dalla Dacia Arena di Udine, benvenuti a Udinese Lazio, a Vittoriam, un fondo di bianco celeste da parte di Luigi Sinibaldi, via, partiti per questo match, può andare direttamente il rumeno a impostare, c'è il cross direttamente in area di rigore, palla che finisce dalla parte opposta dove c'è Lazzari, c'entra Lazzari, sempre lui, Lazzari, e palla sul fondo, una buona iniziativa, poi parolo, Lazio, stiamo a essere concentrato, da Luis Alberto una gran giocata su Okaka, poi palla lunga, verso Immobile, Immobile, palla sul fondo, con deviazione, calcio d'angolo, Milinkovic, c'è Johnny, dietro di lui, ne è servito l'Asturiano, poi il cross di destro, sul secondo palo, Noiting, allontana poi De Paul, attenzione ancora, il tiro di parolo, e palla sul fondo, poi ancora Lasagna per Fofanaghe, carica il destro, poi apre per De Paul, cerca il tiro in porta, e palla, e palla che finisce sul fondo, senza deviazione, occhio allo schema, ma Luis Alberto, e palla che finisce sul fondo, con deviazione finale di un giocatore dell'Udinese, forse Beccão, Luis Alberto, là in area Musso, allungare il pallone con le braccia, poi Lazzari, il tiro in porta Musso, si supera, tentativo da casa sua, di Manuel Lazzari e Musso, va a deviare sopra la traversa, gran palla, in profondità per Lazzari, area di rigore, dentro c'è Caicedo, bloccato, Luis Alberto, palla alta, un attaccante aggiunto, Manuel Lazzari, butanoiti, il cross, dentro, verso Immobile, Musso, ancora, blocchi a terra, quindi Sema, cross sul secondo palo, attenzione, Stracoscia, dopo che ha calciato in porta addirittura Rodrigo Beccão, finisce qui, il primo tempo 0-0, alla Dacia Arena di Udine, ancora Lazio, che commette però un errore, attenzione a Lasagna, cerca il tiro in porta, intervento di Luis Felipe, ancora Lasagna, attenzione, Lazzari interviene, poi Popanà, Lazio si è salvata, con un salvataggio clamoroso di Luis Felipe, Balukaku, direttamente al tentativo di cross, ne è bloccato però da Strighe e Lassan, allora De Paul, palla in profondità verso Lasagna, che è partito, ma c'è subito, Luis Felipe su di lui, viene frappeso da Lasagna, rimane in porta a Stracoscia, attenzione ancora a Lasagna, Stracoscia, un miracolo, e palla in calcio d'angolo, si è mangiato un gol udinese, pallone laterale dove c'è De Paul, carica il destro, cerca il tiro in porta, Stracoscia, un miracolo, Lazio che prova a farsi vedere, ancora con l'angolano, Bastos, ha cercato l'iniziativa personale, niente male, tiro di sinistra, non è il suo piede, tanto Caicedo per Immobile, buona la sponda ancora per Caicedo, sempre lui, poi Milinkovic, palla sul fondo, c'è Milinkovic, occhio intanto, palla verso Immobile, poi di prima verso Luis Alberto, occhio a De Canie, a De Canie, arrega il sinistro, a De Canie, la palla, scivola via sul fondo, con deviazione, Inzaghi era in campo, incredibile, intanto, ora Fobanà per De Paul, carica il destro, De Paul, e palla fuori, Davanti Bastos, e finisce qui la partita, 0-0, fra Udinese e Lazio, e finisce qui la partita,